allora ragazzi scusate saltata la linea torniamo nuovamente in diretta dopo aver parcheggiato all'interno della cantina facciamo un tour delle macchine innanzitutto la macchina del barber presente anche con noi oggi allora facciamo un tour nel parcheggio delle auto mustang di davide vicepresidente tantissime auto come vi dicevo prima circa un centinaio ce ne sono qui oggi più tutto il reparto delle moto allora come vi ho detto all'inizio siamo partiti dal punto di ritrovo a motta questa mattina alle nove e mezza abbiamo fatto un cruise di circa quasi un'oretta e siamo arrivati alla prima tappa di oggi appunto questa la cantina alla quale incomincieremo i ragazzi hanno già iniziato una visita all'interno e poi proseguirà con con la degustazione veramente veramente tante auto americane giornata perfetta non mettere in moto sennò ti lascio le mani niente alla fine questa equifania casa bella ram division presente oggi bellissimi vedere tutti questi pick up insieme auto stupendo veramente delle chicche ci sono oggi incredibili questo è uno di quelle parcheggio pieno oggi pieno 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 cerchiamo di farvele vedere tutte camaro dalla prima generazione alle ultime che vi pica ovviamente continuiamo il giro a ritroso auto parcheggiate veramente l'auto di giorgio finalmente abbiamo piacere di conoscere di persona insomma dopo con la pandemia insomma non abbiamo potuto non abbiamo avuto l'occasione di poterci vedere comunque sempre solo per telefono sono state le nostre conversazioni contentissimo di averlo visto qui oggi qui c'è una chicca una Shelby cobra e questa invece è tutta originale questo è un pezzo originale stanno continuando arrivare comunque sempre altre auto una cuda una cuda il parcheggio non finisce qui ragazzi ci sono veramente veramente tante facciamo vedere l'ultimo reparto ci sono da solo i ragazzi sono dentro in cantina a gustarsi ovviamente quelle che sono le caratteristiche i prodotti tipici del territorio veneto quindi il proseguo sicuramente non può mancare contenta la vicepresidente di poter gustare questo prodotto caratteristico del territorio altre mustang queste se ne vedono veramente poche in giro una panoramica veloce per fare vedere quante auto ci sono presenti qui oggi ed ecco qui ragazzi allora come dicevo prima quando è stata fatta la linea noi continuiamo sempre a ringraziare tutti quelli che continuano a seguire il club scusate una chiamata devo rifiutare come dicevo continuiamo sempre a ringraziare il club che ci segue e i ragazzi che ci seguono i vostri pollici all'insù sono sempre l'auto del presidente di oggi ovviamente ci fa sempre piacere insomma ricevere vostre domande qualsiasi dubbio sul sul club noi siamo sempre a completa disposizione l'auto di eva che anche oggi abbiamo avuto il piacere di di conoscere eccola ieri sera noi ci siamo incontrati con i ragazzi degli Angry Eagle visto che siamo arrivati un giorno prima abbiamo festeggiato insomma quello che è la collaborazione tra i due club quindi abbiamo avuto un momento per stare insieme è stata una giornata stupenda aperitiva, agriturismo insomma ci siamo veramente divertiti e oggi condividiamo insieme a tante altre realtà qui presenti quella che è comunque una passione comune vi direi di chiudere con queste due splendide auto che sono penso le più belle di oggi a mio avviso ovviamente i gusti sono sempre personali e vi lascerei dandovi il saluto e facendo vedere la cobra la quale abbiamo visto prima che è qui questa auto ha una storia un po' particolare però è comunque un pezzo originale quindi ciao ragazzi continuate sempre a seguire il club cercheremo di fare un'altra diretta più tardi in agriturismo insieme altri ragazzi in maniera insomma da farci due risate perché da solo insomma abbiamo cercato di far vedere solo un po' di auto oggi e niente qui dalla cantina è tutto vi saluto e ci vediamo più tardi ciao 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 ciao